Sabato 14 luglio, il sindaco di Pineto Robert Verrocchio torna nella sua città la notte bianca dello sport, dello sport paralimpico, un evento che oramai caratterizza l'estate pinetese e che ha riscosso grande successo nelle stagioni precedenti. Una notte dedicata allo sport, allo sport paralimpico, quindi allo sport inclusivo, ad attività all'aria aperta, sport inteso come occasione per socializzare, per crescere sani, sport inteso come momento anche di educazione, regole, valori, solidarietà, in un momento in cui davvero ce n'è bisogno. Io ringrazio l'associazione Antares che oramai è al quinto anno, ogni anno fa crescere questa manifestazione, sono quasi 200 le attività protagoniste di queste edizioni con migliaia e migliaia di atleti e sportivi e credo che sia anche un'occasione per l'economia locale, insomma sono quasi 3 chilometri di isola pedonale dedicate interamente allo sport, quindi una nottata importante che poi finirà all'alba come ogni anno da tradizione alla Torre di Cerrano con l'evento all'alba appunto. Quest'anno abbiamo il torneo di calcio ballilla, abbiamo il secondo torneo di ballo, abbiamo il primo torneo, salta, corre e lancia con i bambini, poi abbiamo anche il tuning, abbiamo anche forse un po' incerto per via delle autorizzazioni, una gara di rally, abbiamo diverse palestre che operano nel settore locale e cerchiamo di coinvolgere il più possibile la cittadinanza.